Chi saranno questa volta i vincitori degli Oscar? Coming Soon Television ti offre la possibilità di seguire l'annuncio delle nomination. In diretta giovedì 22 gennaio alle 14.30. C'è anche il live? Beh certo. E che facciamo noi? Siamo lì, commentiamo, questo sì, questo no, non è giusto, sì è meglio questo. Insomma, i risultati non cambieranno, però il live ci sarà. Aspè, 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 non altro. No, perché in onda ci siamo prima noi alle 15.30, quindi ne parliamo prima noi. E poi noi un premier abbiamo già vinto. Vero salvo? No, 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 no!